E dalla magistrale penna di Rosella Postorino, autrice delle assaggiatrici premio Campiello 2018, tutti giù per aria, l'avventura di Tina, che scopre le meraviglie di un mondo imperfetto. Smettere di avere paura accettando se stessi è la più grande vittoria. E per la prima volta essere buffa, anziché perfetta, non le fece sudare le mani. Tutt'altro, la rese felice. Nessuno aveva mai riso grazie a lei e forse lei non aveva mai imparato a ridere assieme agli altri, soprattutto di se stessa. Una storia che ci sussurra in un orecchio. Non avere paura di essere proprio la persona che sei e lo fa con la voce delle stelle. Chiara Gamberale